ciao ragazzi eccomi qua buon pomeriggio allora innanzitutto volevo sponsorizzare michi buona channel tv andate a vedere i suoi video perché è in gamba e spacca il tempio del gaming anche lui dove andate sul suo canale poi the brothers game year the brother game 82 mio fratellino andate a vedere suo canale anche lui spacca poi demas demo steve vicio un'area che passione anche lui il vichingo grande massimo murgia poi ora salutare tutti i miei iscritti e sponsorizzare un canale si chiama oro puro tv mi raccomando andate angioletto anche lui fa dei dei video carini simpatici andate anche vedere il suo canale ragazzi niente voglio salutare poi tutti i ragazzi e ragazze che mi seguono a me del cimetà ragazzi che sto videovate dei media di domate le sorelle legna e le sorelle flo e le sorelle line eccetera 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 tutti quanti vi saluto vi abbraccio tutti quanti grazie stiamo crescendo insieme grazie a voi inizio cominciamo sito con questo malagrato il mio fratellino sergio nuovo ragazzi era suo poi lui ha venduto il 3ds e malagrato questo sempre mio fratellino sergio street fighter con libretto tutto e tutto ragazzi poi passiamo a mio fratellino peppe al cogan le brothers gamer figo figo ci abbiamo tutti i cosi qua le cose carine dentro beh manualetti il cosa bellissimo so che un gioco vecchio ma lo me l'ha voluto regalare perché c'era anche lui per giocarlo insieme io non ce l'avevo e questo lo recupero poi 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 hanno rosso il day one di dead island definitive edition la raccorda contiene due giochi completi più tutti dlc più il primo che vedete qua in altro a vecchio stile ragazzi spettacolo bellissimo hanno rotto dove non uscire a fine mese hanno rotto il day one eccolo qua prendetelo perché a chi piace il genere dei modi zombie così prendetelo per 40 euro ne vale la pena eccolo qua poi che altro di ragazzi niente due per petition 4 mio fratellino dei brothers gamer 82 mio fratellino sergio sono arrivato questi due e questo qua l'avevo già prontato io eccolo qua il prossimo unboxing mi ha detto un altro gioco di playstation 4 che esce venerdì ok ragazzi bella a tutti mi raccomando bel commento un bel mi piace sempre presenti sempre attivi ciao belli alla prossima mi raccomando bella a tutti